Cari amici, la mia esposizione presso la Pinarcoteca Comunale di Gaeta si è conclusa il 20 di ottobre dopo circa quattro mesi. Ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederla. Per quelle persone che non hanno avuto modo di vederla possono consultare il mio sito internet www.ruggierodilollo.it o su youtube e trovare Ruggero Di Rollo racconta la luce di Gaeta. C'è tutto il filmato della mostra e io che descrivo quadro per quadro. Sullo stesso sito troverete una sezione Lampi di Bello riguarda argomenti che hanno a che fare con il bello e un modo per tenersi in contatto. Vi terrò informati per le prossime esposizioni e intanto vi ringrazio e saluto.